Ciao a tutti capicini, bentornati in questo nuovo video Oggi viviamo tutti quanti su un mondo fatto di Lucky Block di Pokémon ragazzi Siamo a team, io e Nico contro Marci e Loco Abbiamo ognuno la propria sfera Guardate questo che so sempre la fortuna A portate di mano, signor Nico Ragazzi fermi un attimo per favore Fermi un attimo, ci saranno due sfide all'interno della sfida stessa La prima, quali due team prenderà più i legendari La seconda, quali due team distruggerà di più la propria isola Potete anche distruggere con la TNT e tutto Però se distruggete con la TNT avete meno probabilità di trovare i legendari Perché avete meno Lucky Block Quindi mi raccomando ragazzi Andate bene nella tua isola Loco per favore Vado vado No no no, ecco così parti È un test, è un test per la scienza Funziona, vedi che funziona Ok, ci siamo ragazzi Come facciamo con la TNT, cioè ce la dobbiamo givvare? Sì ma siamo in creativa Marci Ah e se la distruggiamo tutta? Vabbè, tu hai meno Lucky Block per aprire, per prendere i legendari Marci Ok, ok Guarda che sono già partiti Ma aspettate Io non ho, io non ho fatto niente Alexa, imposta un timer di 12 minuti Vai, partiamo Alexa, imposta volume al massimo Allora Marco bisogna Questa è il legendario, vero? Eh, Loco, Loco sto a tre legendari Quattro legendari Ma come è possibile? Ma come è possibile che quello già quattro? Vabbè ragazzi ma quello è rotto Cioè non abbiamo veramente nulla da dire Ma noi ci mettiamo sempre contro quello che è rotto Nico Ma lui è rotto È diverso Allora Nico Qua bisogna Zapdos 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 Prendi, 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 prendi Via Io direi quasi quasi Nico Preparati anche un comando per liberare dei Pokémon Perché quando ce ne sono troppi poi è un bel disastro Quindi mi raccomando preparati per bene qua quei comandi Vedo un troppo No, ma perché adesso? No, adesso no, no Non è corrido Dobbiamo essere tutti d'accordo No, non decidi nessuno No, lupa, sì Ce l'avevo davanti Ma smettila Non è vero Non l'avevi detto nulla Non l'avevi detto Tu sei quella che ha le reazioni sempre esagerate Non hai fatto nulla, dai Raga, ma c'è una madre di leggendare già No, allora facciamo così Dobbiamo essere tutti d'accordo ragazzi Per favore Raiko Vieni con me Vieni con me Vieni con me Bello, bello Mi piace Vabbè, tutti ce li hanno loro Marco Eh, devo controllare Non andare a sbirciare come sono messi loro con l'isola Nico, tu spacca Non riesco a prendere su Ok, vai Nico Ok, ho preso Abbiamo distrutto un po' di più noi Ho preso anche Cartana Ho preso anche Cartana Nico, però devi prendere il mio O Perché se me lo lasci Ehi È un gran peccato Spamma Spamma distruzione di blocchi Nico Più forte poi che poi Veloce, veloce, veloce Poi Massimo vado io e faccio un giro io per prendere tutti quanti Possiamo distruggere per favore Non ancora Oh, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso Vediamo se Uh, qua c'è un diaga Nico, Nico Uh, qua c'è un necro No, come si chiama questo? Zekrom, zekrom, zekrom Volete far pulizia? Ah, becchi, veloce No, aspetta, ora no Non siamo ancora d'accordo Non riesco a prendere neanche tu? No, neanche io Neanche io riesco Un altro zekrom Uh, reshiram, 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 reshiram Vieni qua, reshiram Per favore, reshiram Oh, è entrato Oh, bravo Ok, reshiram è fuggito Vuol dire che forse lo riusciamo Da adesso Cioè, da adesso Quando volete potete farlo Vai, vai, vai Nico, sacrificiamo sto reshiram Aspetta che c'è questo Cosa grande Ok 3, 2, 1 Ok, va bene, va bene, vai Bravo, va bene, va bene Ok, possiamo proseguire Nico Dovamo tancare Abbiamo buttato via Almeno tre leggendari Sono circa Questo chi è? È leggendario? Tre leggendari Dove? Non ti vedo Ah, in ome di sinistra Sì, 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 sì Va lì, via Prendi, prendi, prendi Ok Vai, vai Buzzword, prendiamolo subito Facciamo una bella cosa Anche il leggendario, ok Distruggiamo un po' Eh, Nico Anche noi tra un po' Dovremo sacrificare un po' Con la TNT, eh Vai, tu dimmi Quando io inizio a spaccare Tutto della stand Ok, ok, ok Allora, aspetta un attimo Via Genesect assolutamente Questo è il leggendario, no? Sì, sì, sì Anche questo è il leggendario Dove sei? Io non ti vedo Uh, articuno Io lo catturo Poi vediamo Articuno, articuno Uh, sul galeo Articuno, articuno, articuno Ascoltami a me, Nico Ma è una cosa Piazziamo TNT in giro Tantissime Vada Tante, almeno sacrificiamo un po' di isola Tanto qua Almeno un po' ne possiamo distruggere Quindi qua Piazziamo un bel po' di TNT Quando vuoi, vuoi in... Innescare Innescare dovrebbe essere Quindi, va Così va bene Inneschi, inneschi Innesco, innesco Inneschi, non ci pensi due volte Nico, va che se finiamo senza Lucky Block Avrebbe la sua sfida Pallo Pallo Non sono un po' troppi Pallo A me, a me Ma a me sembra Ora guarda Oh Maggio Perfetto Nico Andiamo Bravo, bravo Mi si è piaciuto Mi si è piaciuto Andiamo, andiamo, andiamo Bravo, bravo Voi ragazzi avete attivato con la TNT per caso? Tanta non è stata troppo Non ha messo Vediamo Oh, Nico Come si è messo? Non hanno fatto un buco Passato L'hanno fatto un buco gigante, Nico Uh, no, no, no Era Reshiram, quello Nico Però c'era anche un Regi Rock Che non deve mollare Era tutto bianco Era un palchia No, no, è un palchia Va bene, va bene Non so che tu abbia visto Però io Nico Ho visto la loro isola Guarda quante bucate anche dentro Ma scusa ma vuoltre se non lo vuoi prendere Prendilo, prendilo Arraffa No, no, Nico Allora fai così Arraffa Cosmog Aspetta, aspetta, loco Nico L'hanno fatto il panico nella loro isola Allora quanto manca il timer, Marco È importantissimo saperlo Quanto manca la fine del timer? Nico Siamo esattamente a metà Io qua distruggo tutto quanto il centro Perché allora l'ho distrutto tutto Io farei un'altra esplosione Farei un'altra esplosione Ti piace a me? Vai, vai Va bene, va bene Abbiamo fatto anche noi un bel solchino Però Nico Loro sono di più Non basta Di più, di più, di più No, no, no Allora io continuo qua Vai io faccio esplodere allora Allora, ok Facciamo cambio Facciamo cambio Vai, fai esplodere Tanto contano la somma dei leggendari, no? Contano la somma dei leggendari Tra me e te Quindi su questo Andiamo super iper tranquillissimi Però qua c'è Tu sei da prendere assolutamente Bravissimo Che ti sei cacciato Ma si spawnassi un wither? No, perché non Disfrugge l'identità E non E vabbè Spacca tutto Dai Non lo so Nico Non lo so Ok Nostra questa esplosione Ok Lunala 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 Dove vai Un cobalion Ok Ok Disfrugiamo anche di qua Fai un paragone con l'altra isola Nico Come ti sembra Aspetta che sta lagando tutto Allora Ok Tapulele da prendere Eh Sono messi meglio Sacrifichiamo tanto Nico Doviamo farlo Sì 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 Fallo Fallo Allora Zekom Zekom prima dell'esplosione Zekom prima dell'esplosione Ok Continua Nico No No Dai Loco Per favore Almeno le cose Normali Cioè Non lo so Via 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 Fionnere Quasa Come sta andando L'esplosione Sto facendo una mega Preparazione Poi è spiegato tutto insieme Eh Dovremmo fare tipo un solco centrale Secondo me Perché qua Ma non conta Quello Dobbiamo fare anche i lati Ragione 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 Tanto loco Tanto noi ci sono messi meno Di Pokémon Potresti fare un cubo gigante Se no Nico Ma in modi illegali In modi Perché anche secondo me L'avranno utilizzato Wordedit Ma non è vero Ma guarda Non lo so Quel buco centrale Che avete fatto ragazzi Te lo spiego io Ho usato I Minecraft Quattiniti da sotto Che sono esplosi E sono andati verso l'alto I Minecraft Ti ho ragione Ma guarda Io faccio I circuiti di redstone Per vincere Sto sfida Stai facendo Ma ti pare normale Questa roba Tenico Non lo so Io non credo Che stia dicendo la verità Ma secondo me Sta falsificando i fatti Signor Loco Dimostramelo Io direi Che dimostrarci Proprio il metodo Che hanno utilizzato Per distruggere così tanto Io non ci credo Se sappi il time Era un secondo arrivo No 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 Qua la sfida Deve continuare Vediamo Guardate Voglio andare In zona madamar Ah in zona madamar Ci è venuto da noi Che sono venuto da voi Marci ci sta dando una mano Dov'è Ah ma hai fatto una torretta Vabbè dai Ci può stare Ci può stare Parchia Guardate che roba No 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 Non sul parchia Marci no Non sul parchia Non è così Ma insomma Ma guarda Sono tutte quelle attorno Che stanno esplodendo Nico però C'è un sacco di lati Block tui È quello Prossato io Non è stato L'uso tutte le TNT come Allora Allora hai fatto Un'attima mossa Bravo Nico Bravo Nico Dopo qui l'ha messo La TNT ha spaccato tutto Ma vedi un po' Vabbè Le ha messe meglio magari No Vabbè Anche Nico Ce l'ha contro Ragazzi Io faccio Ne metto tantissime Tricine No 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 Che c'è Latios No no che c'è Latios Fermati Ma qui lo sono fermo Dimmi quando Ora 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 Gianni Ora bravo Gianni Allora io però Gianni L'ottimismo È il profumo della vita Quello sicuro Però io metterei Tante TNT da questo lato Nico perché ce ne sono dimenticate Per bene Tu continua a spaccare I Lucky Block Stai tranquillo La TNT giù Ma ci piazziamo le tute Tieni ovunque Eh no Eh no Potresti guardare Almeno il timer Quanto manca È un minuto Dalla fine Dircelo Alexa quanto manca La fine del timer Tre minuti abbiamo Signora Ma da marcia Abbiamo due ultime Mezzetti Ok piazza Una mare di TNT tu Dici che lo Scusa Nico Tu devi catturare Marco Per forza Ok allora Attiviamo queste Poi dopo catturiamo Perché se no Se spogliamo leggendari Ora Li uccidiamo Potrebbe essere Non sono ancora abbastanza Sento poche esplosioni Sento poche esplosioni No ma sai che Secondo me si è messi meglio di loro Sento poche esplosioni Marco non mi piace Si è messi meglio di loro Nico Non abbiamo più l'isola Noi Ok va bene Anche noi non scherziamo Signorino Beh infatti Noi abbiamo solamente La parte sotto Raga Uxernus Parliamo di spoccare I blocchi Sto spaccando un sacco Raga Loco Prendi là I leggendari Via 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 Ma è che ci copia le tecniche Ok questo nitran No non era nitran Era antrum Cavolo Sono confuso un attimino Andiamo di qua Via 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 Se ci stanno un po' copiando La tecnica Sta cosa qua Ma raga ma se siamo Ma che cosa dite Che siete in vantaggio Ma che in vantaggio Ma avete visto Cosa abbiamo raga Non mi sto accorto Forse non abbiamo più l'isola No mi sa che voi avete Catturato più leggendari Di noi però Marci Quello è il problema Lunara Bra No 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 Io mi sento che loro Hanno trovato più leggendari Eh però Non è detto Non è detto Loco Quanto manca il timer Alexa quanto manca La fine del timer No no basta Nico 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 Arco noi non abbiamo un'isola Cioè non lo so Quelli cosa credono Ma secondo me Non c'abbiamo proprio l'isola È finita Eeeh Ma la vostra Cerco tantissima Ma che dici Ma cosa ho trovato Cerco tantissima la vostra No Dragonair Non è il momento Sei bellissimo Ma non è il momento Calma Perché prima Sai qual è Nico Che se ora Mo sporano Pokémon Leggendari Che non volano Quanto manca il timer Alexa quanto manca La fine del timer Un minuto di seconda Spacco tutto Io spacco Tutto E' ma Pro E' ma No Di ripiense a mano Stascia Tranquillo Si possono Piazzare i blocchi Eh no Pannaggia Eh no Eh no Blocco Abbiamo tolto Il single blocco Non è vero Ancora li vedo No io li vedo Ancora La cosa La metterò La metterò Bravi 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 Tutto Eh beh Abbiamo fatto Prima di voi Quindi E che conta Scusa No Raga Si gestisce il tempo Quanto manca Alexa quanto manca La fine del timer Alexa Vabbè abbiamo finito qua No no Bravo Upa 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 Ma porca di brazzo Marco devi spaccare quelli rimasti Sono ancora questi qua rimasti Quindi molto bene Loco Loco Cosa Stai rompendo i nostri lucky block Stai rompendo i nostri lucky block Mi sto aiutando No 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 ragazzi Pesso il città Ho evitato Ho rotto i lucky block Ero a tibicendari Che ne era uno Fermo in questo Il cielo te l'ho tolto Alexa quanto manca La fine del timer Bene C'è un'altra Che ne ha detto Un lucky block Non ci ha fermo Non ci credo Ancora non è suonato Ebbiamo averlo detto io Dai E potevi non dirlo Sono Alexa stop Perfetto amici Ci siamo Ci siamo Ci siamo Adesso Io e Nico Abbiamo parlato Nico mi ha scritto in chat Quanti ne aveva Signor Nico Io ti scopro in privato Mi devi confermare Se il numero È questo Mi faccia vedere Mi dica un pochetto So proprio giusti Ok Ragazzi Io ho trovato Ben 23 Leggendari Nico Ne ha trovati 20 E noi abbiamo 43 Pokemon leggendari Adesso Noi invece Ne abbiamo Io 23 Ok Ok uguali E lo ho conneato Tanti in modo tale Che arriviamo a 49 Quindi 26 Bello raga È stata una bella sfida Perché eravamo comunque Molto bilanciati È stata comunque una gran figata Noi cappiacini Ci fermiamo qua Se volete la rivincita Lasciatemi via Ciao 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 Ciao